Operazione interessante anche quella svolta dalla Guardia di Finanza di Pescara che ci apre uno spaccato su una pratica di cui ci dice di più il nostro Luca Pompei in collegamento dalla nostra redazione social. Luca buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carmine. Sì perché noi eravamo abituati a operazioni riguardanti i cosiddetti furbetti dell'arreddito di cittadinanza ma qui in questo caso sembra che si sia alzata decisamente l'asticella. Stiamo parlando dell'operazione Cashpoint portata con successo a termine della Guardia di Finanza di Pescara che ha scovato un tabaccaio in città che sostanzialmente monetizzava gli importi caricati sulle card dei percettori di reddito di cittadinanza. Ecco qui vediamo le immagini e praticamente cambiava in monete questi importi. Ricordiamo che questi sono importi caricati intanto con un sistema di tracciabilità ma poi non può essere speso più di 100 euro al mese per alimenti e quant'altro. Invece come vedete la gente si recava in questo tabaccaio, forniva la carta e il tabaccaio con un tariffario ben specifico che tra poco ci spiegherà il colonnello Antonio Caputo, comandante della Guardia di Finanza della provincia di Pescara che abbiamo intervistato, con un tariffario ben preciso il tabaccaio cambiava questi importi. Allora io direi di andarlo ad ascoltare il colonnello Antonio Caputo. Sì, l'operazione Cashpoint è l'ultima operazione che la Guardia di Finanza di Pescara ha portato a termine nel settore della spesa pubblica. Un settore, quello della spesa pubblica, che è di primaria rilevanza strategica per la Guardia di Finanza, che infatti ha il compito di verificare il corretto utilizzo dei fondi pubblici. Quei fondi pubblici che attraverso il reddito di cittadinanza sono messi a disposizione delle famiglie più povere, delle famiglie più bisognose anche per assicurare l'inclusione sociale. Ma tutto questo naturalmente deve avvenire nel rispetto delle regole. E in questo caso noi abbiamo scoperto, grazie all'intelligenza, alla nostra capacità investigativa, che le regole erano state apertamente violate. Infatti abbiamo scoperto un tabaccaio che svolgeva vere e proprie funzioni di bancomat illegale, cioè monetizzava gli importi caricati sulle card. Questo perché il reddito di cittadinanza viene erogato attraverso le card, quindi per tracciare le transazioni, perché questi soldi servono per acquistare beni di prima necessità, medicinali, per pagare l'affitto, ma è possibile anche prelevare mensilmente 100 euro mensili. Per aggirare questi limiti, questi vincoli, si rivolgevano a questo tabaccaio compiacente che, dietro il pagamento di una provvigione, monetizzava questi importi e quindi faceva saltare il meccanismo della tracciabilità dei flussi finanziari. Addirittura abbiamo scoperto che il tabaccaio aveva visibile al pubblico anche il tariffario delle provvigioni che chiedeva ai propri clienti illeciti. Le indagini proseguono perché questo sistema potrebbe essere molto più diffuso di quanto sembra? Sì, per il momento noi abbiamo denunciato 5 soggetti per truffa ai danni dello Stato e il tabaccaio e i suoi collaboratori per esercizio abusivo di attività creditizia, ma le operazioni sono in corso. Stiamo scandagliando tutte le operazioni poste in essere dal tabaccaio per ricostruire il giro d'affari illecito.